TITOLO SECONDO Il giorno dopo, alle sette e mezzo, Denise era davanti al paradiso delle signore. Voleva presentarsi prima di accompagnare Jean dal padrone, che stava lontano. Ma a mattiniera, per consuetudine, era scesa troppo presto. Come di solito erano a malapena arrivati alcuni commessi. Per paura di farsi ridere alle spalle, presa da una grande timidezza, restò per un poco a passeggiare su e giù sulla Place Gaillon. La tramontana che tirava aveva già asciugato il marciapiede. Da tutte le vie, illuminate da una mattinata scialba sotto un cielo cinereo, i commessi si affrettavano verso il paradiso, col bavero del soprabito tirato su, con le mani in tasca, colte all'improvviso da quel primo brivido dell'inverno. In più se ne venivano soli, infilavano l'uscio del magazzino e vi si perdevano senza dare un'occhiata ai compagni ai quali passavano accanto, altri, a due o a tre per volta, venivano chiacchierando e occupavano il marciapiede per tutta la larghezza. Poi tutti, prima di entrare, buttavano via con il medesimo gesto la sigaretta o il sigaro. Denise si accorse che molti di quei signori nel passare la guardavano. Allora la sua timidezza si accrebbe. Ne sentì più la forza di andare dietro a loro. Decise di non entrare prima che fossero arrivati tutti, arrossendo al solo pensiero che le toccava passare in mezzo a tutti quegli uomini. Intanto per sfuggire all'occhiata si mise a fare ad agio ad agio il giro della piazza. Quando l'ebbe compiuto, trova davanti al magazzino un giovanotto alto, livido ed inoccolato, che da un quarto d'ora pareva aspettasse come lei. «Signorina?» disse alla fine e gli tremava la voce. «Dica un po'. Lei è addetta alle vendite nel paradiso?» Denise rimase così male nel sentirsi rivolgere la parola da quel giovanotto che non conosceva, che non seppe in un primo momento rispondere nulla. «Si tratta, vede...» continuò l'altro, imbrogliandosi sempre più. «Che io vorrei tentare d'esservi ammesso e le volevo domandare come si fa». Era timido come lei e osava parlarle soltanto perché si era accorto che la ragazza tremava come lui. «Volentieri, s'immagini!» rispose Denise. «Ma io ne so quanto lei. Sono qui anch'io per presentarmi». «Ah! Benissimo!» disse l'altro alquanto sconcertato e diventarono tutti e due rossi, trovandosi timidi come erano, in faccia l'uno all'altra, commossi dalla fraterna somiglianza dei loro casi e non osando tuttavia scambiarsi gli auguri di buon successo. Poi, non riuscendo a dirsi più nulla e imbarazzandosi sempre più, si separarono goffamente e ricominciarono ad aspettare ciascuno per conto suo, lontani quattro o cinque passi. Arrivavano ancora commessi. Denise li sentiva scherzare quando le passavano accanto, gettando un'occhiata di traverso. Seccata di starsene in mostra, era sul punto di andarsene a fare una passeggiata di mezz'ora per il quartiere, quando un giovane che veniva lesto-lesso dalla rue Pormahon la fece restare lì un altro minuto. Doveva essere uno dei capi, perché tutti i commessi lo salutarono. Era alto, bianco di pelle, con la barba ben pettinata, e aveva certi occhi vellutati che nel traversare la piazza fissò un momento su di lei. Egli era già nel magazzino indifferente. Mentre la fanciulla era lì, sempre immobile, sconvolta da quell'occhiata che la turbò in un modo singolare, ma era più malessere che piacere. Impaurita sempre di più, si mise a far lentamente rue Gaillon, poi rue Saint-Roch, per aspettare che le tornasse un po' di coraggio. Altro che uno dei capi, era Octave Muret in persona. Quella notte non aveva dormito, perché nell'uscire da una festa in casa di un agente di cambio, era andato a cena con un amico e due donne raccattate tra le quinte d'un teatrino. Il soprabito tutto abbottonato nascondeva l'abito da sera e la cravatta bianca. Salì frettoloso in camera sua, si lavò, si cambiò i vestiti, e quando scese a mettersi alla scrivania, nello scrittoio del mezzanino, stava benissimo. Aveva l'occhio lucido, la pelle fresca, pronto a sbrigare le faccende come se avesse dormito dieci ore. La stanza, grande, arredata con mobili di quercia antica e coi tendoni verdi, non aveva altro ornamento che un ritratto, quello di Madame Duen, di cui nel quartiere si continuava a parlare. Da quando era morta, Octave serbava di lei un dolce e caro ricordo, e si mostrava sempre riconoscente della fortuna che lei sposandolo gli aveva donato. Difatti, prima di mettersi a firmare le cambiali poste sulla scrivania, volse al ritratto un sorriso d'uomo contento. Non tornava, forse egli, sempre dinanzi a lei per lavorare, dopo le sue scappatelle di giovine vedovo, o tornando dalle alcove dove si smarriva talvolta andando dietro al piacere. Bussarono, e, senza aspettare risposta, entrò un giovane alto e magro, con le labbra sottili e il naso a punta. Del resto con aspetto da persona per bene e i capelli lisci, già bianchi qua e là. Mouret aveva alzato gli occhi, poi, seguitando a farle firme, «Avete dormito bene, Bourdoncle?» «Benissimo, grazie», rispose il giovane che pareva a casa sua. Bourdoncle, figlio di un povero fattore dei dintorni di Limoges, era entrato al paradiso delle signore, proprio insieme con Mouret, al tempo che il magazzino stava all'angolo di Place Gaillon. Intelligentissimo, pieno di energia, pareva dovesse, senza troppo darsi da fare, sostituire il suo compagno tanto meno serio di lui, con mille grilli per la testa, un'apparente scappataggine e molti impicci amorosi. Ma non aveva l'ingegno pronto e odace di quel provenzale pieno di fuoco, né la sua grazia vittoriosa. D'altra parte, per un istinto di uomo savio, si era inchinato dinanzi a lui, obbediente fin dal primo momento e senza nessun combattimento con se stesso. Quando Mouret aveva consigliato i suoi commessi di impiegare il loro danaro nel magazzino, Bourdoncle era stato uno dei primi a dare il suo, affidandogli perfino l'eredità inaspettata ad una zia e, a poco per volta, dopo esser salito per tutti i gradi, addetto alla vendita, poi aiuto, poi capo della sezione delle sete, era divenuto uno dei luogotenenti del padrone, il più caro a lui e il più ascoltato, uno dei sei che lo aiutavano a mandare avanti il paradiso delle signore, una specie di consiglio di ministri sotto un re assoluto. Ciascuno di loro aveva il governo di una provincia. A Bourdoncle spettava sorvegliarli tutti. «E voi?» riprese egli familiarmente. «Avete dormito bene?» Quando Mouret ebbe risposto che non era andato a letto, l'altro crollò il capo mormorando «Cattivo sistema!» «E perché?» disse l'altro allegramente. «Sono meno stanco di voi, caro mio. Avete gli occhi pieni di sonno. A forza di fare il sant'uomo ingrassate troppo. Divertitevi, divertitevi e avrete la testa più sveglia!» Era questa la loro consueta disputa da amici. Bourdoncle da principio aveva picchiato le amanti perché diceva «non lo lasciavano dormire». Ora diceva di odiare le donne, ma aveva senza dubbio degli amoretti, dei quali non faceva parola, tanto poco posto avevano nella sua vita. Nel magazzino si contentava di spingere più che poteva le clienti a spendere, con un grande disprezzo per la loro frivolezza nel rovinarsi a furia di stracci. Murray, invece, ostentava grandi ammirazioni estasiandosi dinanzi alle donne, passando da un amore all'altro senza pausa. Le sue passioni aiutavano, diffondevano il suo commercio. Si sarebbe detto che egli carezzava insieme tutte le donne per meglio sbalordirle e tenerle sotto dominio. «Ho visto stanotta il ballo? Madame des Forges! Ah, com'era bella!» «E avete cenato con lei?» domandò il socio. Murray protestò «Ma vi pare? È onestissima, caro mio! No, no, ho cenato con Louise, la piccina delle folie. È stupida, sì, ma è tanto allegra!» Prese un altro pacchetto di cambiali e continuò a firmare. Il bourdoncle seguitava a passeggiare su e giù. Dagli alti vetri della finestra diede un'occhiata, poi tornò indietro dicendo «Guardate che si vendicheranno!» «Chi?» domandò Murray. «Chi? Le donne!» Allora Murray diventò anche più allegro e diede libero sfogo alla brutalità che sotto quell'aria di sensuale adorazione era nel fondo dell'animo suo. Con un'alzata di spalle parve affermare che le avrebbe gettate tutte per terra, come sacchi vuoti, il giorno che non avesse avuto più bisogno di loro per far fortuna. Bourdoncle, cocciuto, ripetè con tono freddo «Si vendicheranno! Ce ne sarà una che le vendicherà tutte! Prima o poi deve finire così!» «Non aver paura!» gridò Murray, esagerando il suo accento provenzale. «Quella non è ancora nata, caro mio! E se viene!» Aveva alzato la penna e la brandiva minacciosamente, come se avesse voluto trafiggere un cuore invisibile. Il socio ricominciò a passeggiare, inchinandosi, come faceva sempre davanti al padrone, che col suo ingegno e le sue stravaganze lo confondeva. La sua mente logica, fredda calcolatrice, non aveva ancora capito la strada per arrivare al successo, né come Parigi si dia spesso in un bacio al più ardito. Stettero un po' in silenzio. Non si sentiva che lo scricchiolio della penna di Murray. Poi, dietro le domande che egli fece in poche parole, Bourdoncle diede notizie sulla grande apertura della vendita delle novità invernali, che doveva cominciare il lunedì seguente. Era un affare grosso. Il magazzino arrischiava la propria fortuna, perché nelle voci che correvano per il quartiere c'era un fondo di verità. Murray si gettava sventatamente nelle speculazioni, come se ogni ostacolo dovesse cedere davanti a lui. Quel senso nuovo del commercio, quell'apparente fantasia fra l'aridità del dare e dell'avere, avevano già dato qualche pensiero a Madame Edouin e, anche oggi, per quanto già fosse più volte andata bene, sgomentava di quando in quando i cointeressati. Si vociferava che era un'imprudenza andare così in fretta. Accusavano il padrone di aver ingrandito con gran rischio i magazzini, per poter fare assegnamento sopra una maggiore clientela. Soprattutto tremavano vedendolo, per così dire, giocare sopra una carta e riempire le stanze di mucchi di mercanzie senza tenere in cassa un soldo di riserva. Così, per questa apertura della vendita, dopo le somme abbastanza notevoli pagate ai moratori, il capitale era impegnato tutto quanto. Bisognava anche questa volta vincere o morire. Ma, in mezzo a quel turbamento, egli seguitava ad essere tranquillo e gaio, sicuro di far milioni come un uomo adorato dalle donne e che non può essere tradito. Quando Burdoncle si premurò di esporre i propri timori per la troppa importanza data a certi reparti che fruttavano poco, egli, con un bel sorriso pieno di fiducia, esclamò, «State zitto! Il magazzino è troppo piccolo, invece, per regola vostra!» L'altro sembrò restare intontito, preso da una paura che non cercava nemmeno più di dissimulare. «Il magazzino troppo piccolo! Troppo piccolo un magazzino dove c'erano diciannove reparti e che non aveva meno di quattrocento impiegati!» «Già, riprese Muret, troppo piccolo! Non passerà un anno e mezzo che saremo costretti ad ingrandire ancora! Io ci penso di già, è sul serio! Stanotte Madame Desforges mi ha promesso di farmi parlare domani con una certa persona, ma se ne parlerà quando l'idea sarà matura!» E finito di firmare le cambiali, si alzò e andò a picchiare amichevolmente la spalla del socio, che non si rassicurava subito. Questi timori della gente che gli stava intorno lo divertivano, in uno di quegli sfoghi di rude schiettezza che rovesciava a volte sui suoi intimi, dichiarò che era in fondo in fondo più ebreo di tutti gli ebrei del mondo. Aveva ripreso dal padre cui rassomigliava nel corpo e nell'anima un volpone che sapeva quel che costa il denaro, e se dalla madre aveva ereditato quel po' di fantasia nervosa, forse era questa la ragione più vera della sua fortuna, perché sentiva di poter osare tutto impunemente. «Voi sapete che vi seguiremo fino in fondo?» Dovette dire alla fine Bourdoncle. Allora, prima di scendere nel magazzino e dare la solita occhiata di tutte le mattine, si misero d'accordo su certi particolari. Esaminarono il campione di un registro a fogli staccabili, che Mouret aveva immaginato per le fatture. Osservato che le mercanzie uscite di moda, i saldi, si vendevano tanto più rapidamente quanto più alta era la regalia data ai commessi, aveva scogitato un nuovo modo di vendita. Su qualsiasi oggetto, un pezzo di stoffa, un non nulla, dava loro una percentuale. E così otteneva che gli addetti alla vendita se ne curassero sul serio. E con questa innovazione aveva acceso tra i commessi una lotta per l'esistenza da cui si arricchivano i padroni. Del resto, questa famosa lotta era la sua parola favorita, il principio dell'organizzazione che non si stancava mai di esplicare. Sguinzagliava le cupidigie, metteva una forza contro l'altra, tollerava che i grossi mangiassero i piccoli e ricavava da questa battaglia il suo vantaggio. Il campione del registro fu approvato. In alto, tanto sulla matrice quanto sulle ricevute da staccare, c'erano il nome della sezione e il numero dell'addetto. Poi, ripetute ugualmente da tutte e due le parti, venivano le colonne per le misure, per la designazione degli oggetti e per i prezzi. L'addetto non faceva che firmarla prima di dare la sua nota al cassiere. In questo modo, il controllo era facilissimo. Bastava riscontrare le liste che la cassa mandava all'ufficio di sconto, con le matrici rimaste in mano ai commessi. Settimana per settimana avrebbero così avuto il loro tanto per cento, senza che ci fosse alcun sbaglio. Ci ruberanno meno, osservò Bourdoncle tutto contento. È stata un'ottima trovata. Stanotte ho pensato anche un'altra cosa, aggiunse Mouret. Sì, caro mio, stanotte, a cena. Voglio dare agli impiegati dell'ufficio di sconto un premio per ogni errore che troveranno nelle fatture via via che le riscontrano. Così potremo star sicuri che non le lasceranno passare uno, piuttosto ne inventeranno. Fece una risata, mentre quell'altro lo guardava ammirato. Questo nuovo modo di trarre vantaggio dalla lotta per l'esistenza lo mandava in solluchero. Aveva il genio della meccanica amministrativa e il suo sogno era di ordinare l'azienda in modo da servirsi sempre dell'avidità degli altri per contentare tranquillamente e pienamente la sua. Quando si vuole, diceva spesso, che la gente metta fuori tutte le sue forze e anche un po' d'onestà. Bisogna prima di tutto porla alle prese con i suoi stessi bisogni. Via, scendiamo, riprese Mouret. Bisogna pensare a questa apertura. La sete è arrivata fin da ieri e Boutemont deve essere a riceverla. Bordoncle lo seguì. L'ufficio degli arrivi era nei sotterranei, dalla parte di Rune of San Agustin. La, sulla strada, si apriva come una gabbia a cristalli dove i carri scaricavano le mercanzie. Venivano pesate e poi scivolavano sopra un apparecchio del quale il rover e i ferramenti erano diventati lucidi per lo strofinio dei fagotti e delle casse. Da quella botola spalancata entrava ogni sorta di roba. Era un ingoiamento continuo, una caduta di stoffe che piovevano con un fragore come di fiume. Quando specialmente la vendita andava a gonfie vele, scivolavano senza mai riposo nel sotterraneo le sete di Lione, le lane inglesi, le tele fiamminghe, i cotoni d'Alsazia, le indiane di Rouen, e qualche volta i carri dovevano mettersi in fila e aspettare. Quando i pacchi gettati arrivavano in fondo, facevano il rumore sordo di un sasso tuffato in acqua profonda. Nel passare Mouret si fermò un istante davanti a quell'apparecchio. File intere di casse scivolavano da sé, senza che si vedessero in alto le mani degli uomini che le avevano lasciate andare. Pareva precipitassero da sé, calassero come un ruscello da una sorgente più alta. Poi apparvero delle piccole balle che si aggiravano come sassi rotolati. Mouret guardava senza fiatare, ma i suoi occhi chiari lampeggiavano a vedere quello scroscio di mercanzie che pioveva nel suo magazzino, quella fiumana che ad ogni minuto versava migliaia di lire. Mai prima di allora aveva avuto così piena coscienza della battaglia nella quale si era impegnato. quel monte di mercanzie bisognava sperderlo ora ai quattro angoli di Parigi. Non aprì bocca e continuò la sua ispezione. Nella mezza luce che veniva dalle larghe fessure, una squadra d'uomini riceveva la roba, mentre altri schiodavano le casse e aprivano le balle dinanzi ai capi delle sezioni. In quel fondo di cantina c'era quasi tanto movimento quanto in un cantiere, in quel sotterraneo, dove colonne di ghisa sorreggevano le volte e nelle nude muraglie non c'era segno d'umidità. Manca nulla, Butemont? chiese Mouret, avvicinandosi a un giovanotto dalle forti spalle che stava verificando il contenuto di una cassa. Ci deve essere tutto, rispose costui. Ma mi toccherà stare tutta la mattina a contare. Il capo dava un'occhiata alla fattura, ritto, davanti ad un grande banco, sul quale uno dei suoi addetti posava ad una ad una le pezze di seta che venivano fuori dalla cassa. Più in là, infila altri banchi, carichi come quello di mercanzie che una moltitudine di commessi esaminavano. Era un continuo sballare, un'apparente confusione di stoffe, guardate, riguardate, poi segnate fra un gran brusio di voci. Butemont, che diveniva celebre, come dicono sulla piazza, aveva una faccia tonda da buon tempone, con la barba nera come l'inchiostro e dei begli occhi castagni. Nato a Montpellier, burlone e bisboccione, per la vendita non valeva molto, ma per il comprare non c'era uno che l'uguagliasse. Mandato a Parigi dal padre che aveva un negozio di mode, non era voluto a nessun costo tornare a casa quando quel povero uomo aveva creduto che ne sapesse abbastanza per poterli succedere nel commercio. E fin da allora, tra padre e figlio, era nato e cresciuto una rivalità curiosa. Perché il vecchio, tutto intento al suo piccolo commercio di provincia, non si dava pace di vedere un semplice commesso guadagnare il triplo di quel che guadagnava lui. Ed il giovane lo canzonava ostentando, vantando i propri guadagni e mettendo sotto sopra, ogni volta che faceva una scappata a casa, tutto il negozio. Come gli altri capi d'ufficio, guadagnava anche lui oltre i 3.000 franchi di stipendio, più una percentuale sulla vendita. A Montpellier la meraviglia e il rispetto non avevano limiti. Si diceva che il figlio di Boutemont l'anno prima aveva intascato quasi 15.000 franchi e non era che al principio. Alcuni, al padre che non ne poteva più, predicevano che in seguito gli affari del figlio sarebbero andati anche meglio. Bourdonc l'intanto aveva preso una pezza di seta e ne esaminava il tessuto con l'attenzione d'un uomo che se ne intende. Era una faille con la bordatura azzurra e color argento, la famosa stoffa paradiso, sulla quale Mure fondava grandi speranze. «E' proprio buona», mormorò il socio. «Se fosse solamente buona», disse Boutemont. «Ma è, se Dio vuole, più bella che buona. Per fare queste cose qui non c'è che Dumontail. Gojan, quando mi sono indispettito l'ultima volta che ci andai, era disposto a metterci attorno cento operai, ma voleva cinquanta centesimi di più al metro». Quasi tutti i mesi Boutemont faceva una scappata alle fabbriche, vivendo delle giornate intere a Lione. Scendeva nelle migliori locande con l'ordine di trattare coi fabbricanti senza badare a spese. Godeva, d'altra parte, di un'assoluta libertà. Comprava quando e come gli pareva, purché ogni anno aumentasse in una proporzione prestabilita quella parte di commercio che gli spettava. Anche per questo aumento aveva la sua percentuale di interesse. «Dunque è fissato», ripresa a dire. «La mettiamo a 5,60, per quel che è costata a noi». «Sì, sì, 5,60», disse vivacemente Mure. «E se fossi solo, la venderei a scapito». Il capo del reparto proruppe in una risata scrosciante. «Per me ci sto! Così la vendita si triplicherebbe, e siccome il mio interesse è di incassare molto». Ma Bourdoncle stava serio, mordendosi le labbra. A lui toccava un tanto per cento sull'utile totale, e non gli conveniva davvero ribassare i prezzi. La sua supervisione consisteva appunto nel sorvegliare i conti delle fabbriche, affinché Boutemont non vendesse a prezzo scadente o con lucro troppo mite per aumentare la vendita. Di più la sua inquietudine rinasceva di fronte a quel desiderio di vendere per vendere, tanto per accrescere la notorietà del magazzino. In tutto questo almanaccare non ci vedeva chiaro. Osò palesare il suo malcontento dicendo «Se la diamo a 5,60 è come darla a scapito, perché bisogna contare le spese, che non sono piccole, la venderebbero a sette franchi dappertutto». Murea quelle parole si indispettì, sbatté la mano aperta sulla seta e gridò stizzito «Lo so! E per questo, proprio per questo voglio regalarla alle signore! Voi, mio caro, ve lo dico io, le donne, non le capirete mai! Non vi riesce di capacitarvi che questa benedetta seta se la litigheranno?» «Sicuro», interrompe il socio che si incaponiva. Ma più se la litigheranno e più ci rimetteremo. Ci rimetteremo qualche centesimo, sta bene. Ma poi? Ci sarà da lamentarsene se attireremo qui tutte le donne, sedotte, affollate davanti alle montagne di nostre mercanzie, a votare il portamonete senza nemmeno fare i conti. Bisogna smuoverle, caro mio, quello è il punto. E per questo ci vuole qualcosa che lusinghi e, come si dice, faccia epoca. Per esempio, la nostra pelle d'oro, quel taffetà a 7,50 che si vende dovunque altrettanto, parrà un'occasione straordinaria e basterà colmare la perdita della Paradiso. Lasciate fare e vedrete. Divenne così eloquente. Lo capite sì o no? Voglio che fra otto giorni la Paradiso metta sottosopra la città. La nostra fortuna sta lì. Sarà lei che ci salverà e ci lancerà. Non si parlerà che della Paradiso. Il bordato azzurro e argento sarà conosciuto da un capo all'altro della Francia. Vedrete che colpo a chi ci fa concorrenza. Il commercio minuto ne buscherà delle altre. Al diavolo tutti questi venditorucci che crepano di reumatismi nelle loro cantine. Intorno, i commessi che riscontravano le merci ascoltavano il padrone sorridendo. A lui piaceva discorrere e vedersi dare ragione. Bourdoncle, anche questa volta, cedette. La cassa intanto era stata votata e due uomini ne schiodarono un'altra. «Tutti bei discorsi», disse Butemont. «Ma i fabbricanti non ne vogliono sapere. A Lione sono furiosi contro di voi. Non fanno altro che dire che il vostro buon prezzo li rovina. Gojan me l'ha proprio detto chiaro. Dichiarazione di guerra. Già, ha giurato d'aprire quanti crediti vogliono i piccoli commercianti piuttosto che adattarsi ai miei prezzi». Mure alzò le spalle. «Se Gojan non mette giudizio», rispose, «se ne accorgerà lui. Di che si lamentano? Noi li paghiamo subito e prendiamo tutto quel che fabbricano. Mi pare che possano lavorare per qualcosa meno. Del resto basta che ci guadagnino i clienti». Il commesso votava la seconda cassa, mentre Butemont si era rimesso ad appuntare le pezze della seta consultando la fattura. Un altro commesso, in cima al banco, le segnava con cifre convenzionali e, finito il riscontro, la fattura firmata dal capo della sezione doveva andare alla cassa centrale. Per un momento ancora, Mure guardò quel lavorio. Tutta quella operosità intorno alle merci che sballate minacciavano ammucchiandosi di invadere tutto il sotterraneo. Poi, senza aggiungere una parola, seguito da Bourdoncle, se ne andò con l'aria di un capitano soddisfatto dei suoi soldati. lentamente attraversarono il sotterraneo. Le fessure ogni tanto mandavano una luce pallida e, in fondo agli angoli bui, lungo i neri corridoi, i lumi a gas ardevano continuamente. In questi corridoi stavano le scorte, delle zone cinte da cancellate, dove le varie sezioni accumulavano gli avanzi della loro merce. Nel passare, il padrone diede un'occhiata al calorifero che doveva essere acceso il lunedì, per la prima volta, e al piccolo picchetto di pompieri, che erano a guardia ad un contatore gigantesco, chiuso in una gabbia di ferro. La cucina e i refettori, piccole stanze rabberciate da vecchie cantine, erano a sinistra verso l'angolo di Rougaillon. Finalmente giunse all'altro capo del sotterraneo, all'ufficio delle partenze. I pacchi che le clienti non portavano via con sé erano messi in ordine là, divisi su tavoli in tanti scompartimenti, ciascuno dei quali rappresentava un quartiere di Parigi. Poi, per uno scalone che sboccava proprio in faccia al vecchio al boeuf, li mettevano nelle vetture ferme accanto al marciapiede. Nell'ordinamento meccanico del Paradiso delle Signore, quello scalone di Rougue della Michaudière scaricava senza mai posa le mercanzie scivolate giù per l'apparecchio di Rougue Neuf-San-Agostin, dopo che erano passati in alto per le ruote dentate dei reparti. «Campion!» disse bruscamente Mouret al capo che era un ex sergente magro magro. «Perché se paia di lenzuola comprate ieri da una signora alle due non sono state recapitate ieri sera?» «Dove sta questa signora?» domandò l'impiegato. «In rue de Rivoli, sull'angolo di Rougue d'Alger, Madame des Forges. A quell'ora le tavole erano vuote. Negli scompartimenti non c'erano che gli involti restati lì dal giorno prima. Mentre Campion frugava fra questi involti, dopo aver dato un'occhiata in un registro, Bourdoncle guardava Mouret, pensando che quel demonio sapeva tutto, s'occupava di tutto, perfino la notte a tavola, in una trattoria o nell'alcova di un amante. Finalmente, il caporeparto scoprì com'era andata. La cassa aveva dato un numero sbagliato e l'involto era tornato indietro. «Che cassa è?» domandò Mouret. «Eh?» «La decima» e, volgendosi al socio. «La decima è quella di Albert, non è vero?» Bisognerà dirgli due paroline. Ma prima di fare un giro nel magazzino, volle salire all'ufficio delle spedizioni che occupava parecchie stanze al secondo piano. Le ordinazioni dalla provincia e dall'estero arrivavano là, e tutte le mattine egli vi andava a leggere la posta. Da due anni la posta cresceva ogni giorno di più. L'ufficio cui da principio era bastato una dozzina di impiegati, ora non poteva a far con meno di trenta. Alcuni aprimano le lettere, altri le leggevano ai due capi di una stessa tavola. Altri poi le ordinavano mettendo su ciascuna un numero d'ordine che era ripetuto sopra un casellario. Quando avevano distribuito le lettere alle diverse sezioni e dalle sezioni erano saliti sugli oggetti, questi erano disposti a mano a mano nel casellario secondo il numero d'ordine. Non c'era più da far altro che riguardare e imballare, in fondo a una stanza accanto, dove una schiera d'operai non faceva dalla mattina alla sera che inchiodare e legare. Mouret domandò al solito «Quante lettere stamattina, leva soeur?» «534», rispose il capo ufficio. «Dopo l'apertura di lunedì, ho paura di non aver più gente che basti. Ieri ce l'abbiamo fatta a malapena». Bourdonc le tentennava la testa tutto contento. «Un martedì 534 lettere». Non se lo sarebbe mai figurato. Intanto alla tavola gli impiegati aprivano e leggevano con un fruscio continuo di carta sgualcita, mentre dinanzi il casellario cominciava l'andirivieni degli oggetti. Era quello uno degli uffici più imbrogliati e più importanti della casa. Avevano tutti la febbre, perché bisognava che le ordinazioni della mattina fossero via via spedite la sera stessa. «Vi daremo quanta gente vorrete, leva soeur!» rispose finalmente Mouret, il quale con un'occhiata aveva visto che le cose andavano regolarmente. «Quando c'è lavoro e c'è bisogno di uomini, non si dice mai di no!» In alto, sotto il tetto, c'erano le stanzette dove dormivano le addette alla vendita. Ma egli ritornò giù ed entrò nella cassa centrale che stava accanto al suo studio. Era una stanza chiusa da una vetrata con una grata di metallo, attraverso la quale si vedeva un enorme cassaforte incassata nel muro. Due cassieri vi raccoglievano gli introiti che ogni sera portava l'homme, primo cassiere della vendita, e quei quali poi si provvedeva alle spese. Pagavano i fabbricanti, gli impiegati, tutto quel piccolo mondo che viveva sulla casa. La cassa dava su un'altra stanza, tutta scatole verdi lungo le pareti, dove dieci impiegati riscontravano le fatture. Andò poi in un altro ufficio, quello dello sconto. Sei giovani chinati su neri tavolini con dietro alle spalle intere collezioni di registri. Vi segnavano i conti della percentuale dei commessi, raffrontando le fatture. L'ufficio era nuovo e non andava ancora per il suo verso. Muret e Bourdoncle avevano attraversato la cassa e l'ufficio di riscontro. Quando passarono nell'altro ufficio, i giovani che ridevano allegramente ebbero un sussulto di sorpresa. Allora Muret, senza stare a rimproverarli, spiegò il sistema del premio che aveva pensato di dar loro per ogni errore scoperto nelle fatture e, subito dopo che fu uscito, gli impiegati, smettendo di ridere pieni di buona voglia, si rimisero al lavoro cercando gli sbagli. A pian terreno nel magazzino, Muret andò di filato alla cassa numero dieci, dove Albert Lhomme, aspettando i clienti, si ripuliva le unghie. Da quando Madame Aurelie, che era la prima nelle manifatture, dopo aver spinto il marito al posto di primo cassiere, era riuscita ad ottenere una delle casse minori per il figlio, giovanotto pallido e pieno di vizi, che non stava mai fermo in un luogo e che le dava molto da fare e da pensare, tutti dicevano «la dinastia dei Lhomme». Ma Muret non volle fare lui la strapazzata al giovanotto. Gli seccava di compromettere la propria dignità in un mestiere da gendarme. Un po' per gusto, un po' per furbizia, gli piaceva serbare il suo contegno di nome benigno, e toccò leggermente il gomito di Bourdoncle, l'uomo senza macchia, l'uomo cifra, a cui di consueto dava l'incombenza delle partacce. «Monsier Albert», disse costui severamente, «siamo alle solite. Avete preso male un altro indirizzo. L'involto è tornato indietro, così non va». Il cassiere credette di doversi difendere e chiamò a testimoniare Joseph, il garzone che aveva fatto l'involto, e che era anche lui della dinastia dei Lhomme, perché fratello di Latte di Albert e perché aveva ottenuto quel posto grazie all'autorità di Madame Aurélie. Siccome il giovine gli voleva far dire che dello sbaglio aveva colpa la cliente, Joseph cominciò a balbettare e a tirarsi quei pochi peli di barba che aveva, combattuto tra la sua coscienza di vecchio soldato e la gratitudine per i suoi protettori. «Non tirare in ballo, Joseph», disse alla fine Bordoncle. «E smettete di rispondere. Buon per voi che abbiamo dei riguardi a vostra madre». Ma a quel punto accorse Lhomme. Dalla sua cassa, che era accanto alla porta, vedeva quella del figlio posta nel reparto dei guanti. Già tutto bianco, imbolsito per la vita sedentaria, aveva un aspetto cascante, senza espressione, quasi consumato al riflesso del danaro che non finiva mai di contare. Era senza un braccio, ma si sbrigava come se li avesse tutte e due. L'andavano anzi a vedere per curiosità quando riscontrava l'incasso. Tanto i fogli di banca che il denaro scorrevano rapidamente nella sua mano sinistra, la sola che gli restasse. Figlio di un esattore di Chablis, era venuto a Parigi a tenere i libri da un negoziante di vino. Poi, stando in Rucuvie, aveva sposata la figlia del suo portinaio, sartucolo alsaziano, e da quel giorno era rimasto sottomesso alla moglie che gli incuteva rispetto, perché aveva tutti i requisiti del commerciante. Lei, alle manifatture, metteva da parte più di diecimila franchi e lui aveva soltanto quei cinquemila dello stipendio, e la sua deferenza, per una donna che li portava in casa ogni anno quel gruzzolo, si irraggiava anche sul figlio, perché era figlio di lei. Come? mormorò. Albert ha sbagliato. Allora, come faceva sempre, Murray rientrò in scena per farvi la parte del reclemente. Quando Bourdonc l'aveva minacciato, egli provvedeva alla propria popolarità. Una cosa da nulla, rispose. Caro Lom, bisognerebbe che questo sventato d'Albert pigliasse esempio dal papà. Poi, mutando discorso, e sempre più affabilmente. E quel concerto, ieri l'altro. Avevate un buon posto? Un po' di rosso colorò le gote pallide del vecchio cassiere. Non aveva che un vizio, la musica. Un vizio segreto che appagava da solo, andando a teatro, alle accademie. Per quanto gli mancasse un braccio, suonava il corno la sera, con un certo apparecchio ingegnoso. E lui, siccome Madame Lom aveva in orrore il frastuono, ravvolgeva il suo strumento in un panno, contento anche in quel modo dei suoni stranamente sordi che ne traeva. Chiusi lì tutto il giorno, lui, la moglie, il figlio, si può dire che non avesse famiglia. O almeno nessuno dei conforti della famiglia, e cercava i conforti nella musica. La musica è il danaro. Non conosceva, non sentiva altro, tranne si intende il rispetto che aveva per la moglie. «Ah, sì, un buonissimo posto, troppo gentile», rispose, e gli occhi gli lucicavano. Mure, che provava un gran piacere a soddisfare le passioni degli altri, dava qualche volta all'homme i biglietti che le signore patronesse gli affibiavano, e lo incantò del tutto dicendogli «Ah, Beethoven, Mozart, che musica!». E senza aspettare che rispondesse, se ne andò, e raggiunse Bourdoncle, che stava già per fare il giro dei reparti. In un cortile interno, chiuso a cristalli, c'era la seta. Tutti e due seguirono dapprima la galleria della rue Neuf-San-Agustin, che da un capo all'altro era tutta piena di biancheria. Non videro nulla di irregolare, passarono lentamente in mezzo ai commessi rispettosi. Poi si inoltrarono fra le stoffe di Rouen e i berretti, dove regnava lo stesso ordine. Ma nel reparto delle lane, lungo la galleria che si prolungava perpendicolare alla rue della Michaudière, Bourdoncle riprese la sua parte di gran giustiziere, vedendo un giovane a sedere su un banco, distrutto e sbalordito da una notte passata senza chiudere occhio. E quel giovane si chiamava Lienart, figlio di un ricco negoziante di Angers, chinò la testa alla sgridata, avendo questa sola paura nella sua vita d'ozio, di trascurataggine e di piaceri, d'essere richiamato in provincia dal padre. Da quel momento le osservazioni fioccarano. Sulla galleria di Rouen de la Michaudière si scaricò la tempesta. Nel reparto delle stoffe, un commesso, di quelli che c'erano da poco nella casa e vi dormivano, era tornato da fuori a mezzanotte suonata. In quello delle mercerie, il secondo commesso era stato trovato nei sotterranei che fumava una sigaretta. Ma nel reparto dei guanti più terribili imperversò la bufera, rovesciandosi sulla testa ad uno dei pochi parigini che erano al paradiso. Il bel Mignot, come lo chiamavano, bastardo di una maestra d'arpa andato a finir là non si sa come. Il suo delitto era d'aver fatto scandalo nel refettorio, lagnandosi del vitto. Si facevano tre tavolate, una alle nove e mezzo, la seconda alle dieci e mezzo e la terza alle undici e mezzo, ed egli voleva spiegare che all'ultima, dove era lui, toccavano sempre gli avanzi delle precedenti, roba intrugliata e impasticciata. «Come? Il vitto non è buono?» domandò Mouret con un viso ingenuo, aprendo finalmente bocca. Non passava al cuoco che un franco e mezzo per giorno a testa. Il cuoco, terribile al vergnate, trovava pure il modo di riempirsi le tasche, e il vitto era davvero esecrabile. Ma Bourdoncle si strinse nelle spalle. Un cuoco che doveva pensare a quattrocento colazioni, a quattrocento pranzi, anche se in tre volte non poteva mica perdere il tempo coi manicaretti. «Non importa», riprese il padrone affabilmente. «Io voglio che tutti i nostri impiegati abbiano un vitto sano e abbondante. Ne parlerò al cuoco». E così il richiamo di Mignot fu messo nel dimenticatoio. Allora, tornati là da dove erano partiti, dritti accanto alla porta, in mezzo agli ombrelli e alle cravate, Mouret e Bourdoncle ricevettero il rapporto dei quattro ispettori incaricati di sorvegliare il magazzino. Il vecchio Jouvet, capitano decorato a Costantina, bell'uomo ancora col suo nasone sensuale e la sua calvizia e maestosa, riferì loro ad un addetto alla vendita che per un semplice rimprovero fattogli da lui gli aveva dato del rimbambito, e il venditore fu licenziato immediatamente. Nel magazzino, intanto, nessun cliente. Soltanto le massaie del quartiere attraversavano le gallerie deserte. Sulla soglia, l'ispettore che segnava l'arrivo degli impiegati aveva chiuso il registro e scriveva a parte i nomi di quelli in ritardo. Era l'ora che gli addetti si mettevano nelle loro sezioni spazzate e pulite dai garzoni fin dalle cinque. Ciascuno poneva da parte cappello e soprabito, soffocando uno sbadiglio col viso pallido ancora dal sonno. Chi chiacchierando si guardava attorno quasi per prepararsi a una nuova giornata di lavoro, chi ad agio ad agio scopriva le mercanzie che la sera prima aveva ben ripiegate e coperte d'un panno verde. E le stoffe apparivano disposte simmetricamente. Tutto il magazzino era lucido e in ordine, in quell'allegria della mattina, aspettando che il tumulto della vendita lo buttasse all'aria un'altra volta e lo ingombrasse d'un rovescio di tela, di panno, di seta e di trine. Sotto la luce viva della sala centrale, al banco delle sete, due commessi discorrevano fra di loro. Uno, piccolo e grazioso, ma forte e roseo, cercava di accostare dei colori di seta per una vetrina. Si chiamava Yuten. Era figlio di un caffettiere di Ouivto e, in un anno e mezzo, aveva saputo diventare uno dei più bravi nel negozio per la sua dolcezza, la sua continua carezza adulatrice che nascondeva una bramosia furiosa di pigliar tutto per sé, di divorare anche senza fame, per puro divertimento. «Sentite, Favier, nei vostri panni, parola d'onore, gli avrei dato uno schiaffo!» Diceva quell'altro che era un giovanotto alto, bilioso, secco e giallo, ma vestito con un certo decoro. Era nato a Besançon, da una famiglia di tessitori e sotto un aspetto freddo e sgarbato nascondeva una volontà ferrea. «Uno schiaffo non rimedia nulla», mormorò egli pacatamente. «È meglio aspettare». Parlavano di Robinou, che sorvegliava gli impiegati ogni volta che il capo del reparto erano i sotterranei. Hutin scalzava sordamente il sostituto, del quale voleva il posto. Macchinava di sommuoverli contro tutta la sezione e di mandarlo via a forza di seccature e di dispetti. E come ci sapeva fare con quell'aspetto cortese che aveva? Soprattutto sobillava Favier, che era addetto alla vendita, e sembrava disposto ad assecondarlo, ma con certe dure riserve che accennavano come lui, sotto sotto, voleva tirare acqua al suo mulino. «Zitto, diciassette!» disse egli risolutamente al compagno per avvertirlo con quel grido convenzionale che Mouret e Bourdoncle si avvicinavano. Questi venivano davvero, continuando la loro ispezione, si fermarono e domandarono a Robinou perché una partita di velluti stesse una scatola sull'altra, in mezzo a una tavola, e avendo costui detto che non c'era più posto dove metterle, «ve lo dicevo io», interruppe Mouret sorridendo, «ve lo dicevo io, Bourdoncle, che il magazzino è già troppo piccolo. Un giorno o l'altro bisogna buttar giù i muri fino in Rouchasseul. Vedrete che lavoro il lunedì che viene!» E intorno a questa vendita, alla quale si preparavano in tutti i reparti, interrogò di nuovo Robinou e gli diede degli ordini. Ma pur seguitando a parlare, da qualche minuto stava attento a quel che faceva Houtin, che seguitava a mettere le sete azzurre accanto alle grigie e alle gialle, dando poi un passo indietro per meglio giudicare l'armonia dei toni. Bruscamente Mouret si rivolse a lui. «Ma perché cercate di far piacere all'occhio? Non abbiate paura! Azzecateli così, rosso, verde, giallo!» Aveva preso la seta e la svoltolava, la sgualciva, traendone lampi di luce. Ne convenivano tutti. Il padrone era in tutta Parigi l'uomo che sapeva mettere meglio la vetrina, a modo suo, a dire il vero, sconvolgendo tutte le tradizioni e fondando la scuola del grottesco e dell'enorme nella scienza delle mostre. Voleva che le stoffe sembrassero cadute a caso dai cartoni sventrati, e le voleva a monti, fiammeggianti dei colori più vivi, ravvivantisi l'una con l'altra. «Quando escono dal magazzino, soleva dire, i clienti devono aver male alla retina!» Houtin, che era invece della scuola classica della simmetria e dell'armonia cercata nelle gradazioni, lo stava a guardare, mentre in mezzo a una tavola accendeva quell'incendio di stoffe, senza usare una parola di critica, ma con le labbra strette da una smorfia di artista offeso, nei suoi convincimenti da quell'orgia di colori. «Ecco fatto», disse Moree quando ebbe finito. «E lasciatelo stare. Vedrete lunedì se le donne si accalcano a questo modo, sì o no». Proprio in quel punto, mentre egli stava per raggiungere Bordoncle e Robinot, arrivava una donna che rimase lì ferma e stupita dinanzi alla vetrina. Era Denise. Dopo aver esitato quasi un'ora nella strada per un terribile assalto di timidezza, si era finalmente decisa. Ma aveva perso la testa e non le riusciva più di capire nemmeno le spiegazioni più chiare. I commessi ai quali chiedeva tremando di Madame Aurelie avevano un bel indicare la scala del mezzanino, ringraziava e poi, se le avevano detto di svoltare a destra, svoltava a sinistra. In modo che da dieci minuti non faceva che andare qua e là per il pian terreno, di reparto in reparto, tra la curiosità maligna e l'odiosa indifferenza degli addetti, sentendo insieme una voglia di scappare piangendo e un gran bisogno di ammirare. Si sentiva spersa, piccina com'era, in quel caos, in quella macchina non ancora in moto, tremando d'essere travolta nel movimento che faceva già a fremere le muraglie. E il ricordo della bottega del vecchio Elbeuf, nera e stretta, faceva sì che il gran magazzino le paresse ancora più grande e l'appariva brillante, di luce simile ad una città, con i suoi monumenti, le piazze, le vie, dove non le sembrava possibile ritrovare la strada. Non aveva ancora osato arrischiarsi in mezzo alla Sala delle Sete, che con l'alta volta a cristalli, i banchi di lusso e l'aspetto di chiesa le faceva paura. Quando era finalmente entrata per sfuggire alle risate dei commessi della biancheria, si era imbattuta di primo acchito nell'esposizione di Muret. E per quanto fosse sbalordita, l'istinto femminile si era svegliato in lei e, con le gote rosse, stava lì a guardare il fiammeggiare delle Sete. «Toh!» disse crudelmente Utena all'orecchio di Favier. «L'acciuga di Plasgayon!» Muret, mentre fingeva di dar retta a Bourdain-Clarobinot, in fondo godeva di quella meraviglia della ragazza povera, al modo stesso che una marchesa prova acri desideri per un barrocciaio che passa. Ma Denise aveva alzato gli occhi e si turbò anche più quando riconobbe il signore che aveva preso per uno dei capi commessi. Le parve anzi che le desse un'occhiataccia. Allora, non sapendo più come fare ad andarsene, persa addirittura la testa. Si rivolse di nuovo al primo commesso che le capitò innanzi, a Favier, che le era vicino, «Scusi, per andare da Madame Orly?» Ma Favier, sgarbato, si contentò di rispondere brevemente «Al primo piano!» E Denise, smaniosa ad uscire di sotto agli sguardi di tutti gli uomini, ringraziava e volgeva anche questa volta le spalle alla scala, quando il bel Uten cedette naturalmente al suo istinto di galanteria. L'aveva trattata da acciuga. Ora, con quanta più amabilità potè, la fermò e «No, per di qua, signorina, se vuole accomodarsi!» Fece anzi qualche passo davanti a lei, la condusse ai piedi della scala che era a sinistra sotto la galleria e, giunto lì, salutò sorridendo come sorrideva tutte le donne. «Quando è in cima, giri a sinistra. Di faccia ci sono le confezioni!» Questa cortesia commosse profondamente Denise. Era quello un soccorso quasi fraterno. Aveva alzati gli occhi e guardava Uten, e ogni cosa di lui la commuoveva, il viso grazioso, gli occhi che con loro sorriso la riconfortavano, la voce che le pareva dolcissima. Le si gonfiò il cuore di gratitudine e, nelle poche parole che seppe dire, gli dia della sua amicizia. «Non si scomodi, lei è troppo buono, grazie mille!» E Uten era già accanto a Favier e gli diceva con la sua voce secca «hai visto, eh? Le manca la carcassa!» In cima, Denise finì proprio in mezzo al reparto delle confezioni. Era una stanza grande, circondata da alti armadi di quercia scolpita e con le finestre suru della michaudière. Cinque o sei donne, vestite di seta, pettinate in modo civettuolo e con le crinoline ben rigonfie, si muovevano chiacchierando. Una alta e sottile, con la testa troppo lunga e con un certo modo di fare da cavallo scappato, si era appoggiata ad un armadio, come se già non ne potesse più della stanchezza. «Madame Orelie?» ripetè Denise. La ragazza la guardò senza rispondere, con un'aria di disprezzo per quel suo aspetto di povera. Poi, rivolgendosi a una delle compagne, piccola, con la pelle bianchiccia, un viso insieme ed innocente ed annoiata, domandò «Mademoiselle Marguerite, sapete dove sia madame Orelie?» L'interpellata metteva in ordine dei mantelli secondo la lunghezza e non si degnò nemmeno di alzare la testa. «No, mademoiselle Claire, non lo so», rispose a fior di labbra. Stettero tutti zitti. Denise stava lì, ferma, e nessuno si occupava di lei. Aspettò un momento e poi osò fare un'altra domanda. «Credono che madame Orelie tornerà tra molto?» Allora quella che ne faceva le veci, una donna magra e brutta, di cui ancora non si era accorta, una vedova con gli zigomi sporgenti e i capelli ispidi, le gridò da un armadio dove riscontrava i cartellini. «Se volete parlare proprio a madame Orelie, bisogna che aspettiate!» E, volgendosi a Marguerite, aggiunse «Non è nel sotterraneo?» «No, signora, non credo», rispose la ragazza. «Non ha detto nulla! Non può essere lontana!» Denise, rassegnata, rimase in piedi. C'erano delle seggiole per le clienti, ma nessuno le diceva di sedersi, e non osò prenderne una per quanto fosse tanto turbata da far fatica a reggersi in piedi. Quelle ragazze, si vedeva bene, avevano subito odorato in lei una che chiedeva lavoro, e la sbirciavano con la coda dell'occhio senza nessuna benevolenza, con la sorda e nemicizia di gente che è a tavola e non vuol stringersi per far posto agli affamati. Il suo imbarazzo si fece sempre più grande. Traversò a piccoli passi la stanza e si affacciò alla finestra, tanto per avere il tempo di rimettersi. Di fronte, il vecchio Elbeuf, con la sua insegna ingiallita e le sue vetrine morte, le parve così brutto, così sciagurato, visto a quel modo tra il lusso e la vita del luogo dove si trovava, che una specie di rimorso le strinse il cuore. «Avete visto che stivaletti ha?» sussurrava Claire a Marguerite. «E che vestito?» rispondeva l'altra. Con gli occhi fissi sulla strada, Denise sentiva che dovevano dir male di lei, ma non ne fu offesa. Quelle due le erano sembrate brutte, tanto la grande Claire col suo chignon di capelli rossi che le cadevano sul collo, quanto la piccola Marguerite col suo color latte andato a male, che faceva ancora più cascante la sua faccia schiacciata e quasi senza sossa. Claire Pruner, figlia di uno zoccolaio di Givet, traviata dai camerieri nel castello di Mareil, quando la contessa la chiamava in casa per i rammendi, era venuta da un magazzino di Langres e a Parigi si vendicava sugli uomini delle pedate con le quali il padre l'aveva coperta di lividi. Marguerite Badon, nata a Grenoble, dove la sua famiglia commerciava in tele, aveva dovuto rifugiarsi al paradiso delle signore per nascondervi un peccato di gioventù, un bambino natole per caso, e se si comportava bene doveva tornare laggiù a dirigere la bottega dei genitori e sposare un cugino che l'aspettava. Ripigliò a voce bassa Claire. Quella lì non ci darà molta noia, ma si zittirono. Una donna di circa 45 anni entrava, era madama Aurelì, un pezzo di donna stretta nel suo vestito di seta nera, il cui corpetto, teso sopra la rotondità massiccia delle spalle e del petto, lucicava come un'armatura. Sotto le bande di capelli nerissimi aveva due grandi occhi immobili, la bocca severa, le gote larghe un po' cascanti, e nella sua maestà di direttrice il suo viso appariva gonfio come la maschera di gesso d'un Cesare. «Mademoiselle Marguerite», disse con voce stizzita, «perché ieri non avete mandato al laboratorio il modello del mantello a vita?» «C'era qualche correzione da fare, signora», rispose la ragazza. «E là, madame Frédéric». Allora la Frédéric trasse da un armadio il modello, e le scuse se guitarono. Tutti piegavano la testa innanzi a madame Aurelì, quando credeva di dover difendere la sua autorità. Vanitosissima al punto di non voler essere chiamata col cognome di Lom, che le dava noia, e di rinnegare lo sgabuzzino del portinaio autore dei suoi giorni e del quale parlava come d'un sarto che tenesse bottega. Non era buona che con le ragazze le quali sapevano cedere in tempo e cadere in ammirazione dinanzi a lei. Nel negozio di moda che aveva voluto metter su per suo proprio conto, perseguitata dalla sfortuna, furibonda di sentirsi nata per essere ricca e di non riuscire a nulla, s'era inasprita, ed anche ora, per quanto al paradiso delle signore guadagnasse dodicimila franchi l'anno, pareva che l'avesse con tutti, ed era dura coi principianti, come la vita era stata dura da principio con lei. «Basta, basta!» disse seccamente. «Anche voi, signora Frédéric, siete come tutte le altre. Bisogna accomodarlo subito!» Durante questa scena, Denise aveva smesso di guardare nella strada. Pensava che quella doveva essere madame Aurelì, ma, intimorita dalla sgridata, non osava muoversi e aspettava sempre. Le ragazze, tutte contente di aver messo alle prese la direttrice e la vice direttrice, erano tornate al loro lavoro, con un'aria di profonda indifferenza. Passò qualche altro minuto e nessuna aveva ancora la carità di trarre la giovinetta dal suo imbarazzo. Fu madame Aurelì che finalmente si accorse di lei e che, meravigliandosi di vederla immobile, le domandò che volesse. «Scusi, madame Aurelì? Sono io!» Denise aveva la gola asciutta, le mani fredde, presa da una di quelle paure che l'accoglievano da piccina quando si aspettava ad essere picchiata. Balbettò la sua domanda e, perché fosse capita, dovette ripeterla. Madame Aurelì la guardava coi suoi occhi fissi, senza che una ruga della sua faccia da imperatore si degnasse di muoversi. «Quanti anni avete?» «Venti, signora!» «Come venti? Non ne dimostrate nemmeno sedici!» Le ragazze alzarono di nuovo la testa per stare a sentire. Denise si affrettò ad aggiungere «Oh, ma sono robusta, sa?» Madame Aurelì fece una spallucciata. Poi disse freddamente «Dio mio, mettervi in nota! Vi metterò!» «Già vi si mettono tutte quelle che vengono, per cui, mademoiselle Marguerite, datemi il registro!» Non lo trovarono subito. Doveva essere nelle mani dell'ispettore Jouvet. Mentre Marguerite stava per andare a cercarlo, giunse Mure, sempre seguito da Bourdoncle. Compivano allora il giro dei reparti del magazzino. Avevano attraversato le trine, gli scialli, le pellicce, la mopiglia, la biancheria e finivano con le confezioni. Madame Aurelì si tirò da parte. Chiacchierò un po' con loro di un'ordinazione di pantaloncini che pensava di fare ad uno dei più grossi fabbricanti di Parigi. Di solito, comprava direttamente e sotto la sua responsabilità, ma per le compere importanti le pareva meglio consigliarsi con la direzione. Dopo, Bourdoncle le raccontò la nuova scappataggine del figlio Albert e della parve esasperata. Quel ragazzo prima o poi l'avrebbe fatta crepare. Almeno il marito, se non era mai stato un'aquila, aveva però un gran fondo di onestà e di serietà. Tutta quella dinastia dei Lom, di cui ella era la guida riverita, qualche volta le dava dei gran grattacapi. Mure, intanto sorpreso da ritrovare Denise, si voltò per domandare a Madame Aurelì come mai c'era quella ragazza. E quando l'altra ebbe risposto che si era presentata per l'ammissione, Bourdoncle, col suo solito disprezzo per le donne, parve sdegnato da quella pretesa. «Via, via, queste sono burlette! È troppo brutta!» «È vero, non ha nulla di bello», rispose Mure, non osando difenderla, per quanto si ricordasse ancora con piacere della commozione provata dalla fanciulla davanti all'esposizione. Ma arrivò il registro e Madame Aurelì tornò verso Denise. L'impressione in sostanza non era buona. Era pulita nel suo vestitino di lana nera. Ma questo non significava nulla perché c'era l'uso di passare l'uniforme, un vestito di seta nera uguale per tutte. Denise pareva troppo gracile e aveva il viso troppo triste. Senza pretendere che tutte le ragazze addette alla vendita fossero occhi di sole, le volevano simpatiche. Intanto, sotto gli sguardi di quelle donne, di quei signori che la studiavano, la pesavano come una giumenta contrattata al mercato dai contadini, Denise non sapeva più in che mondo si fosse. «Come vi chiamate?» chiese la direttrice, con la penna in mano pronta a scrivere sull'angolo di un banco. «Denise Badu, signora. Quanti anni avete?» «Venti e quattro mesi». E, usando alzare gli occhi su Mure, su quel signore che trovava dappertutto e la cui presenza la angustiava, ripetè «Non pare, ma sono molto robusta». Sorrisero tutti. Bordoncle si guardava le unghie in atto di impazienza. Quelle parole furono accolte da un silenzio che prometteva male. «In che negozio siete stata, Parigi?» domandò la direttrice. «Ma, signora, arrivo ora ad Avalogne». «Peggio che mai. Al paradiso delle signore volevano di solito che le addette alla vendita fossero state prima almeno un anno nei piccoli negozi della città». Denise si era ormai perduta di speranza. E, se non fosse stato, per i ragazzi che avevano bisogno di lei per campare, se ne sarebbe andata, pur di non seguitare quell'inutile interrogatorio. «Da chi eravate, Avalogne?» «Da Cornei». «Lo conosco. Buona casa quella del Cornei», disse Mure. Era difficile che mettesse bocca quando si presentava gente per essere impiegata, perché i capi dei reparti erano responsabili del personale. Ma per la delicata nozione che aveva della donna, indovinava in quella ragazzina una grazia nascosta, una forza di bontà e di tenerezza, che ella stessa ignorava. Il buon nome della casa da cui gli impiegati venivano era di gran peso, e spesso si giudicavano le richieste di assunzione con questo solo criterio. Madame Aurelì continuò più dolcemente. «E perché siete venuta via da Cornei?» «Ragioni di famiglia», rispose Denisa arrossendo. «Ci è morto il papà e la mamma e ho dovuto seguire i miei fratelli e poi ecco un certificato». Il certificato era stupendo. Ricominciò a sperare quando un'ultima domanda la imbrogliò davvero. «Avete a Parigi qualche conoscenza? Dove state?» «Dallo zio», mormorò, esitando a nominarlo, per paura che non ne volessero sapere della nipote d'uno che faceva concorrenza al magazzino. «Dallo zio Badoo, qui di rimpetto». Mouret allora non poteva più trattenersi. Intervenne di nuovo. «Ma come? Siete la nipote di Badoo! E vi manda Badoo?» «Oh no, signore!» Le parve un'idea così curiosa che non poteva fare a meno di ridere. Sembrò si trasfigurasse. Era sempre color di rosa e il sorriso sulla bocca un po' larga irraggiava tutta quanta la faccia. I suoi occhi grigi si illuminarono. Le gote si infossarono leggeramente. I suoi capelli troppo chiari parve anche loro s'animassero in quella allegria buona e coraggiosa di tutta la persona. «Ma sapete che è carina?» disse piano Mouret a Bordoncle. Il socio non ne volle convenire e fece un gesto d'annoiato. Claire si era morsa le labbra e Marguerite volgeva le spalle. Soltanto Madame Aurelie parve vinta e approvò Mouret con un cenno della testa, quando egli ripresa a dire «Ha fatto male vostro zio a non condurvi lui. Bastava la sua raccomandazione. Dicono che ce l'ha con noi. Ma noi siamo di idee più larghe. E se non può impiegare la nipote nel suo negozio, noi gli dimostreremo che sua nipote basta che bussi da noi per essere accolta. Ditegli che io gli voglio bene sempre, che non deve avercela con me, ma con le nuove condizioni in cui si trova il commercio, e diteli che finirà con rovinarsi se si ostina a stare tra quel mucchio di anticaglia muffite». Denise ridiventò pallida. Quello lì dunque era Mouret in persona. Nessuno l'aveva detto, ma si era fatto conoscere da sé. Ed ella ora capiva perché quel giovane le aveva fatto tanta impressione prima per strada, poi nel reparto delle sete, ed ora anche lì. Questa commozione che non si poteva spiegare gravava tuttavia, e troppo, sul suo cuore. Le tornava in mente tutto ciò che le aveva raccontato lo zio, e ingigantiva nel proprio animo Mouret, circondandolo di una leggenda e facendolo direttore della terribile macchina che fin dalla mattina le pareva dovesse trascinarla nelle sue ruote. Dietro quella graziosa testa, con la barba arrabbiata, ella vedeva la moglie morta, quella Madame Edouin, che aveva col suo sangue cementato le pietre del magazzino. Allora fu ripresa dal freddo della sera prima, e credette di non sentire altro che paura di lui. Madame Aurelie intanto aveva chiuso il registro. Non aveva bisogno che di una ragazza, e già c'erano dieci domande, ma aveva troppa voglia di far piacere al padrone. Non di meno la domanda doveva fare il suo corso regolare. L'ispettore Jouvet avrebbe preso informazioni, e poi, fatto il suo rapporto, a lei stava a concludere la cosa. «Sta bene, signorina», disse maestosamente per conservare intera la sua autorità. «Vi scriveremo». Per un momento ancora Denise restò immobile, non sapendo come fare ad andarsene in mezzo a tutta quella gente. Finalmente ringraziò Madame Aurelie, e quando dovette passare davanti a Moree e a Bourdoncle, li salutò. Quei due del resto non badavano più a lei, e non risposero nemmeno al saluto, tutti intenti nell'esaminare con Madame Frédéric il modello di un mantello a vita. A Claire sfuggì un gesto di stizza, e diede un'occhiata a Marguerite, quasi per predire che l'intrusa non si sarebbe lì dentro, sdraiata sopra un letto di rose. E Denise indovinò certamente quella indifferenza e quel rancore, perché scese la scala con lo stesso turbamento, di quando l'aveva salita, e con una strana angoscia domandandosi se doveva disperarsi o rallegrarsi d'esserci venuta. L'avrebbe avuto il posto? Non arrivava nemmeno a capirlo, perché impacciata a quel modo non le era riuscito di stare attenta. Di tutte le sue sensazioni, due persistevano, e a poco a poco cancellavano le altre. Il turbamento tanto forte da essere quasi paura, provato da lei nel vedere Moree, la cortesia di Houtin, che era stata la sola gioia di tutta la mattinata, un ricordo di cara dolcezza che la riempiva di gratitudine. Quando attraversò il magazzino per andarsene, guardò se c'era quel giovanotto, contenta nel proposito.